salve voglio farvi vedere un attimino qui sul sugli scogli al solito posto caposele il contest qua il cq worldwide di ex contest guardate qui l'antenna è chiusa totalmente chiusa non c'è antenna praticamente guardate qua questo piccolo stiletto qua chiuso guardate che cosa riesce a fare questa radia vedete con lo stilo chiuso non sto toccando lo stilo perché poi potrei essere io ma guardate qua guardate che segnali in questo posto facciamo un piccolo scan guardiamo un po con lo stilo chiuso vedete guardate qui siamo con lo stilo chiuso questo piccolo stiletto così chiuso riesce a captare parecchie cose insomma pazzesco questo perché il posto permette tanto con lo stilo chiuso ragazzi ok buongiorno a tutti grazie grazie grazie